Heyo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi andiamo a reagire a Sammy TN featuring Simbala Roo e Keta Qui ci spacchiamo di brutto eh, qui ci spacchiamo di brutto eh, Keta ci spacca, Simbala Roo ci spacca di brutto E se non mi ricordo era lui o era Minurkolo con l'asciugamano in testa? C'è stato un bel dibattito eh, c'è stato un bel dibattito nella reaction di Minur sull'asciugamano in testa Avete detto che mi avete fatto ricordare, anzi, che lo faceva pure Ludacris ai tempi Quindi è una cosa che, è una moda che si sta rispolverando dai Speriamo che si rispolveri pure la moda da vestirsi largo eh, così non devo più vestirmi bene, posso vestirmi così a caso con vestiti comodi Invece che tutti stanno a vestirsi Gucci, Dolce Campana, Prada Non ho acquistato di niente, che mi vesto così? Guarda che già erano abbastanza cari anche i bei baggy eh, pure le tute di carcanai Mamma mia, quelle erano belle cari, dovevo andare fino a Milano e spendere 120-130 euro per una felpa Quindi economico proprio non era, però erano comodissime Cioè, no, l'ho buttata via qualche anno fa, però 12 o 13 anni mi è durata, quindi buona qualità E vabbè dai, abbiamo finito di dire le stronzate, andiamo subito a spaccarci con questa canzone No vabbè, il nome del produttore è geniale, eh, Many Trouble, Many Trouble Diretta da Peter Mario, no, Peter Marble Qui Turbo Questa maglia non mi piace Ma che? Ma aspetta, ma che? Questa è la maglia della biglianese Tu mischi, ma che maglia è questa? Oh? Che maglia è questa, lo sapete voi? Non è che sono un esperto di calcio, però Uh, che figata questo il tuo titolo Mi chiama, ma questa è la Tunisia Ah, ma sono maglie di nazionali, allora, si vede No, però non penso che nazionali hanno quei colori Oh, aspetta, 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 questo barroco Oh, tantissimo Oh, amico Oh, amico Oh, amico Oh, amico Eh, bello Oh, amico Oh, amico Che schifo, mamma mia! Come ha? Chi è che hanno dissato? Come ha? Oddio Chi è che hanno dissato? Ma ma che cos'è sta moda Con sto cazzo di Jack Daniels? Avete rotti i coglioni con sto Jack Daniels E basta! Ma che fine hanno fatto? Cioè, una volta quando uno si voleva ubriacare Si pigliava la bottiglia di vodka Con il succo di frutta a fianco Cioè, lo mischiavi, ti faccio gli cipiti Oppure ti dà una sgolata di uno, poi l'altro O le birre! Ma che è sto Jack Daniels? Dio Cristo! Mamma mia! Sempre uno sto cazzo di Jack Daniels Mamma mia! Piuttosto uno scotch Già qui da intenditore, no? Però, per ubriacarsi per strada È meglio una birra, una bottiglia di vino A vodka Da farsi il cocktailino in bocca direttamente Ma sto Jack Daniels Jack Daniels è più roba da poker Ti siedi al tavolo Ti fumi il tuo sigaro Sei lì tranquillo Bello cheer Rilassato Stai perdendo un po' di soldi Ma fai quinta che non te ne frega niente E ti bevi il cecchettino di Jack Daniels Ma non così per strada! Dai! Da quando è che è diventata la bevanda dei criminali? Ah, non lo so, guarda Cioè, è sempre stato la bevanda dei criminali Ma quelli con stile seduti Tipo, non lo so, comunque rispettosi Che ti rispettano Poi ti ammazzano Non quelli che ti minacciano Boh, non lo so Sono rimasti indietro coi tempi E non vali nada Oh mamma Voglio fare la mafia Pistole Bucano la tua porta Entro nel tuo blocco Con un gruppo Busta la tua porta Porta Homa Arby La droga Droga Zodiac Barca Allo Simba Si, si, si Salvo un problema Ne ho altri eventi Wesh legal Ma, ma, ma Mal dalla posizione Oh mio Dio Io non ce la faccio Io non ce la faccio Ma perchè devo fare vedere Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ah, le TN sono le scarpe Sono Nike Eh, non lo so Io non ci capisco niente Dio, due paia di scarpe Quelle sono Beh, non lo so quello, eh Beh, non lo so, non lo so Se è meglio criminale Che carabiniere Perchè se sei criminale Non puoi essere carabiniere Però se sei carabiniere Potresti anche essere criminale E non sto implicando nulla Però sto Sto solo mettendo giù Dei fatti, eh Cioè Ha la possibilità di essere una cosa Di essere neanche un'altra Allo stesso tempo E invece con una non puoi Perchè Perchè Che vuol dire Che vuol dire Prima facciamo vedere Però penso che sia anche qualcuno In Marocco Non lo so Sai che è Free Ananas? Ah, Free Ananas Ah, allora è quello che Che gli stavano prima Che mettevano le scritte Ah, puntini puntini Che ha un loro amico Che è un loro amico Il tetto Che vedete Noi La canzone ha fatto Il video anche ha fatto Farmo Ilências Sonsensibile su queste cose, sono sensibile su queste cose, cioè finché è sangue non me ne frega niente o cose così ma, oh mio dio, spiego il cazzo di buchi che aveva, oddio mio, basta, 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 prima che vomito, sono andato a pigliarmi io sangue stamattina, quindi mi fa immaginare ancora di più, me lo fa risalire di più ancora, mamma mia, oddio, no, però comunque la canzone spaccava davvero raga, eh, a parte di scherzi questa canzone era davvero potente, mi è piaciuta davvero un sacco, fortissimi, mamma mia, se ne avete altre di raccomandazioni, per favore scrivete nei commenti, fatemi sapere a cosa volete che reagisca e lo andrà a fare molto presto, assolutamente, non dimenticatevi anche di seguirmi su Twitch, oggi andiamo a reagire al disco di Salmo, visto che me lo state richiedendo tantissimi e reagiremo anche a un po' di altre cose, eh, quindi veniteli in diretta questa sera verso le 8 di sera e andremo a reagire al disco di Salmo e anche un po' di freestyle, un po' di altre cose, vediamo un po', dai, chi viene, viene e vediamo un po', di arrangiarci quando è ora, vi lascio il link in descrizione del mio Twitch, oppure potete trovarmi, mi chiamo il vero Mauro, così non mi confondo con tutti questi fake in giro, eh, 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 e nulla, non dimenticatevi anche di iscrivervi al mio canale su YouTube, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima, bella! Ciao!